Hai un lavoro da dipendente? Oggi neanche con un contratto a tempo indeterminato si può avere la certezza di mantenere per sempre quel posto. E sia che in questo momento vada tutto bene nel tuo lavoro o che magari corre voce di una ristrutturazione organica e di licenziamenti, ti consiglio di porti queste quattro domande. Prendi carta e penna, scrivi le domande e poi prenditi un po' di tempo per rispondere. Sto apportando all'azienda più di quello che costo? Che cosa so fare di particolarmente bene? Che cosa mi distingue da tutti i miei colleghi che fanno la stessa cosa? E infine, come posso migliorare ancora di più quello che so fare particolarmente bene? In questo modo troverai quali sono i tuoi valori distintivi e quando l'azienda dovrà decidere chi tenere con sé se tu apporti più di quello che costi, sai esattamente quale valore stai dando e ti migliori costantemente per poter dare sempre di più e sai cosa ti differenzia dai tuoi colleghi? Ecco che avrai più possibilità rispetto a tutte le altre persone che non ci sono poste queste domande e non ci sono date queste risposte. Ciao e alla prossima!